tre piedi, ottimo, guardate la robustezza, tre gambe, tre assi per ogni gamba, il pistone centrale è veramente grande, questo qui mi pare che si alza a cricco, avevo già fatto un altro video su questo, mi pare che avesse, questo è quello della Saba, non sbaglio il cricchetto a manovella, si gira e sale su per tutta la lunghezza del pistone e si allenta con il tastino qui, tutto regolabile, inclinazione, anche la manilia per tenere, questi sono con le telecamere di una volta, con le belle pesanti, comunque forse si può usare anche ora adesso.